E' un problema tuo, per noi sono benvenuti, i nostri nemici non sono loro, i nostri nemici sono quei che stanno in divisa, che prendono 1.400 euro a me rispianto con l'ora, che cosa c'entra a te, a te nella vita tua, se i problemi della tua vita te ne risolvono quelli che vengono a contestare 100 persone, non credo che te ti risolvi il problema della vita tua se vieni qua a contestare. 10 disperati, 10 disperati, 100 persone che scappano dalla miseria, dalla guerra, dalla fanno, e non so se si dice, ma che cazzo è stato lì? Ti volevo far morire, ti volevo far morire, l'hanno sequestrati, donne e bambini, siete tutti i padri dei famigli, pure io, pure te, e io non mi abio con chi è più povero di me, chi è più povero di me, te e 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 te. Non è il nemico, certo che parlo, perché questi che hanno più bisogno non sono nemici, non sono nemici, non sono nemici. Bravo hai fatto con l'ora, se pure è bello grosso, facci vedere il fisico, la vedete la tua maglietta. Non è che facciamo la maglietta. Non è che facciamo la maglietta. Non è che facciamo la maglietta. Allora, qual è il punto vostro? Questa è il futuro. Noi no. Bisogna capire che, non so, chi così. a Genova non vado, non vado a Genova non vado a Genova non vado a Genova non vado vicino a loro non vado loro scavavano ma sarà un altro tipo di problema? io ne ho visto in Abruzzo e in Emilia io ne sono stato un mese da Abruzzo noi ci siamo andati a dare una mano che dovremo dare gli amici vostri sono pregati gli soldi ma chi?